Paola Peruffo, consigliera comunale a Ferrara, vicepresidente Commissione Pari Opportunità, ha seguito il convegno questa mattina di donne salute. Le impressioni? Il convegno è stato sicuramente molto utile per mettere in rete e collegare i vari soggetti che da anni a Ferrara operano in questo settore. Sono convinta che ancora troppo poco si conosca che cosa si intenda per medicina di genere. Credo che utilizzando a spese anche contenute anche rispetto alle farmacie, ai medici, a tutti gli operatori sanitari, la possibilità di approcciare più persone possibili per far capire quanto sia importante la medicina di genere. Genere si intende non solo femminile ma anche maschile. Moltissime persone non sanno quanto ad esempio le lobby farmaceutiche possano influire sulla medicina di genere e quanto poco conto si tenga dell'effettiva salute delle persone e spesso e volentieri si tengono maggiormente in considerazione i proventi per le grandi punti multinazionali. Grazie Paola.